bello a tutti signori e bentornati in questo secondo video di guns gore cannoli allora c'erano fermati qui e nell'ultima parte nell'altra volta ci siamo fermati qui e dobbiamo continuare a cercare di scappare dalla nave che ci ha portato in questa strana città piena di zombie signori io sono maullo 941 vi ringrazio per guardare questo video per esservi iscritti per i commenti per i like per tutto quanto vi ricordo di fare un salto sul canale principale mi trovate sempre come maullo 941 e niente signori partiamo pronti alla cacciara apriamo la leva aspettiamo che scenda quella cavolo di piattaforma che è una cosa impressionante prima che arriva quella piattaforma praticamente succede l'impossibile però va bene fammi una cosa stiamoci qua belli nascosti così dovremmo riuscire a evitare una botta dei zombie se stiamo belli tranquilli qua belli tranquilli nascosti dobbiamo semplicemente andare avanti ma no il giocatore di rugby il giocatore di rugby mamma mia mannaggia lui mannaggia lui ok è andato su è andato giù è andato giù è andato giù si riesce a salire il giocatore di rugby riesce a salire mamma mia mi ha fatto volare male mi ha fatto volare male dai ma quando muore questo non muore mai ma porca di una paletta ambriaca non muore mai siamo già morti signori siamo la cosa grave che siamo già morti il piccolissimo problema che siamo già morti ancora la barra non è neanche arrivata a metà ok attenzione a questi attenzione a questo attenzione a questo ok io riesco a no la signora isterica via 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 occhio alla signora isterica occhio alla signora isterica questa mi sa che in quel periodo del mese in quel periodo del mese la signora cambiamo arma cambiamo arma dai 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 così perfetto occhio al poliziotto che spara senza guardare il poliziotto è un pericolo che spara senza guardare carica 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 vinni carica vinni carica cannoli ok attenzione attenzione dai dai di pieno in piena testa bello così quando arriverà prima o poi la piattaforma secondo voi secondo voi arriverà la piattaforma prima o poi secondo me non arriverà mai quella cazzo di piattaforma vinni carica o ok l'uomo il cuoco esploso male il cuoco esploso male il poliziotto lo pigliamo precisa in testa o sta arrivando la piattaforma signori sta arrivando la piattaforma sta arrivando la piattaforma zitti 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 che riusciamo a andarci da questa parte forse riusciamo a andarci dai 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 occhio dai 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 via così via così via così no sono riuscito a fregarlo mamma mia ce l'abbiamo fatta forse abbiamo completato questa prima parte forse forse signori forse ce l'abbiamo fatta ok siamo tornati sopra sperando che sia un po tutto più tranquillo ok ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ok con calma scendiamo siamo riusciti a scendere dalla nave questa già è tanta roba già è tanta roba che siamo riusciti a scendere dalla nave occhio 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 vinni non puoi carica quando dai dai così da moda spazio da moda prendiamo spazio ok recuperiamo armi come se non ci fossero domani cambiamo arma signori ci abbiamo qualche proiettelozzo più in più per questa quindi utile utilizziamo la mannaggia ti sparo nelle ginocchia ti sparo devi levarti questo c'è il cartello no 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 questo non riusciamo a ammazzarlo così forse dobbiamo ok se c'è il cartello dobbiamo spararli direttamente in faccia riusciamo a entrare qua dentro no dai 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 che ti faccio saltare in aria male dai dai che ti faccio saltare in aria male ok tu mi sembra un gondoliere il tizio lì no 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 la signora la signora è terribile la signora in quel periodo del mese no 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 l'hai voluto tu signora l'hai voluto tu mamma mia che persona antipatica che signora antipatica che signora antipatica non si può stare belli tranquilli che subito no occhio 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 c'è pure l'erce c'è pure l'erce maggiordomo no 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 cambiarma cambiarma zio dai così dai così no conviene tenerci questo signori conviene fare i meglio sfraccelli con questa praticamente mannaggia a te riuscita a spararmi all'ultimo carica ma porca miseria quindi si perde nel momento di carica di carica praticamente e come faccio io no 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 che peccato una gran bella macchinina distrutta così gran peccato che che da dove arrivano ste botti no 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 chi è che mi sta a tirare botti signori come si permette questo di tirarci botti no 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 allora fermi tutti cambiamo arma cambiamo arma cambiamo arma i gondolieri li facciamo fuori così fuori un gondoliere fuori l'altro gondoliere fuori l'altro gondoliere siamo troppo vicini siamo troppo vicini houston houston si però io così no ok ma mamma mia che è saltato male che è morto male con calma dai il checkpoint buono così altre armi per noi no 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 occhio a questo occhio a questo c'ho un prolettere che mi sta inseguendo e questa cosa non va bene questa cosa non va bene no è riuscito a prendermi mannaggia a te con questi se dispare in testa muoiono subito con gli altri ci vogliono più colpi prima di riuscire ad ammazzarli che questa ci sta più tempo a caricare dai cosi dai cosi dai cosi te te devo pigliare in testa se no non muori mannaggia a te mannaggia a te te devo pigliare in testa ok checkpoint signori mamma mia questa è letale è letale questa dai cosi uno dai cosi due dai cosi tre oh combo gli ho preso i due in un colpo solo dai cosi occhio a lurch occhio a lurch occhio a lurch così mi piace grande zio carica carica ah no ho finito ho finito ah quella era bellissima quella era un'altra arma ho capito occhio a lurch occhio a lurch no 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 questo questo da questa parte però scemo madonna mia mi hanno ammazzato male mi hanno ammazzato ma e vi devate dalle scatole porca miseria mamma mia quanto ci stanno a morire porca miseria te mori male così te te qualche bel proiettolozzo anche a te dai dai questi lozzi per tutti no la signora delle pulizie no riuscite a prendermi mannaggia a te dai dai cazzarola dai dai le molotov io dovrei neanche iniziare a tirare le bombe sono essere devo imparare a tirare le bombe signori le bombe fanno più cacciati e tutto lì dai così di bombe di bombe di bombe e il cuoco salta in aria male no c'è una mia bellissima bomba non la voglio dire alla moto dove dovevo tirata non è esplosa dai così dai così dai così ma quanto è grosso sto porto signori ma quanto è grosso sto porto dai così tutto tu dai così dai così checkpoint per noi checkpoint per noi perché mi ha dato quell'arma no voglio questa qua voglio la pistoletta addirittura questi nuotano questi nuotano se vediamo la bomba esplode bello così abbiamo catturato da di pepe sciolini dai così dai così dai così siamo riusciti a scendere dalla banchina forse 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 ci siamo riusciti no non ci siamo riusciti mannaggia lei ma no ma che cazzo non è mannava a quel paese ma è terribile signori questi li facciamo fuori male dai così dai così dai così facciamo fuori il poliziotto poi il tempo di caricare famo fuori mannaggia mannaggia a te no ce n'è un altro di quelli di prima ma cambiamo arma dammene una più 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 cazzuta e come l'ammazzo io quello lì intanto mi devo levare questo da questo le posso far esplodere mannaggia allora tu devi morire male tu devi morire male e tu ti pigli una bella bombetta in faccia ok devo iniziare a usare più spesso le bombe signori devo iniziare a usare più spesso le bombe stiamo senti al fuoco che non so se mi fa bene se mi fa male no la signora la signora la signora mannaggia voi dovete starmi lontano no no ma porca ma porca ma porca no il gioco del rugby no il gioco del rugby no siamo visti male siamo visti ma l'attenzione attenzione caccia la signori caccia la cascia la casca la casca la casca la no caciata la totale caccia la totale caciata camminare, ok, stiamo salendo no, no, siamo morti, signori siamo degli uomini morti siamo più morti di loro che sto zombie dai, levati siamo più morti di noi di loro che sto zombie dai, così, dai, così, dai, così per fortuna abbiamo guadagnato un po' di tempo ma sono praticamente morto ok, calma, calma e stanco e freddo signori, calma e stanco e freddo, la situazione si fa particolare secondo me ci riesco ad arrivare là senza morire ok, ci siamo arrivati, abbiamo preso tante belle munizioni c'è un altro checkpoint ti prego, mi dai un altro checkpoint, dammi un altro checkpoint dammi un altro, te vi do una bomba, così state in compagnia ok bella così, calma, calma, siamo sul tetto della capitania, li riporto dai, 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 fallo fuori, fallo fuori bello così, carica, carica save, signori, va bene, allora fermi tutti, io per questo secondo episodio mi fermo qua, signori vi faccio, aspettate, faccio fuori questa tizia di qua, io per questo secondo episodio mi fermo qua, non so dove stiamo andando cosa sta succedendo, però mi sta mi sta intrippando questa questa serie, detto questo signori io mi fermo qua, vi ringrazio per i like per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto noi ci vediamo sempre qui su questo canale per un prossimo video, bella raga ciao 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 Grazie a tutti.